I decessi odierni sono 23 in regione, età media 79 anni, tutti con patologie pregresse, tranne una 81enne di Fano. Salgono a 310 decessi totali nella regione Marche dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero delle persone positive al coronavirus che erano ricoverati in ospedale e sono state dimesse. Sono attualmente 119 contro i 105 della precedente rilevazione. Come comunica il Gores che dà conto di complessivi 1.086 ricoverati nell'ambito dell'emergenza coronavirus. In 148 sono in terapia intensiva, 179 in semi-intensiva, 577 in altri reparti, 182 in area post-critica. Finora sono 8 i guariti. Tra i 2.934 positivi, 1.553 sono attualmente in isolamento domiciliare. Tra quelli che hanno avuto contatti con i positivi ma non hanno fatto il tampone, 5.872 sono isolati in casa, di cui 4.533 asintomatici e 1.339 con sintomi. Sono invece 600 gli operatori sanitari in isolamento domiciliare. La provincia che registra quasi la metà dei casi di positività nelle Marche e Pesaro-Urbino, seguono Ancona 820, Macerata 395, Fermo 160 e Ascoli Piceno 80 e 47 casi sono provenienti da fuori regione. Bolettino Nero invece arriva dalla casa di riposo Famiglia Nova di Fano, che ha appurato un aumento dei decessi da 3 a 9 e 8 anziani ricoverati in gravi condizioni, con una stima di circa 48 persone potenzialmente infette. La struttura, attraverso una nota stampa, intende garantire i servizi all'interno, nonostante il calo di 18 unità di personale in meno. Il responsabile chiede intervento delle autorità locali.